Abbiamo incontrato anche Alessandro Ricciarelli, il candidato a sindaco di Uzzano per il centrodestra. La sua lista insieme per Uzzano è sostenuta da tutto, il centrodestra unito, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Cambiamo. Anche a lui, a poco più di due settimane dal voto, abbiamo chiesto quali siano state le richieste degli elettori per la prossima legislatura. C'è voglia di cambiamento, questo lo percepiamo, parliamo con la gente, nonostante che negli ultimi dieci anni di amministrazione non ci siano stati particolari problemi, qui manca lavoro, viabilità, le frazioni si sentono trascurate, quindi ci muoveremo in tale direzione e nel programma abbiamo elencati tutti questi punti che non sono altro che un riassunto che ci fanno i vari abitanti delle frazioni che visitiamo. Ci sono coloro che hanno le idee chiare e coloro che invece devono averle ancora chiarite, perché un elettore deve votare Alessandro Ricciarelli? Sicuramente gli elettori che non voteranno centrosinistra troveranno una lista eterogenea, tutti i partiti del centrodestra coalizzati in una lista che contiene anche civicità, quindi un contenitore che può raccogliere molteplici idee e sul programma veramente si trova tutto questo.